3 punti davvero importanti dopo feste particolari Sì, hanno un nuovo, l'altro è un nuovo, speriamo e da adesso in poi la squadra non mangia nessun caldo di situazione che non vogliamo fino alla fine facciamo adesso un altro campionato e la stessa preparazione che abbiamo fatto per affrontare questa partita se facciamo questo possiamo ottenere grande soddisfazione L'impatto tecnico e psicologico del ritorno di Mr. Reia? È stato... Io sinceramente pensavo che non sarebbe, diciamo che potesse portare tanta serenità io sono stato sorpreso perché il suo arrivo ci ha dato un po' di serenità non lo so, l'ambiente ha cambiato e anche perché credo che noi siamo andati in vacanze è consciente di che qualcosa dovevamo cambiare quindi penso che unito a quello avuto il ricambio dell'allenatore ci ha portato un po' di serenità Senti, si è parlato tanto del tuo ruolo i primi due anni con Reia il cambio di ruolo negli ultimi due anni il ritorno di Reia si diceva che devono parlare devono trovare un'intesa vi siete detti qualcosa? Sì, però sì, ho fatto lo stesso ruolo che stavo facendo con Petkovic quindi... Ci siamo parlati, ci siamo provati a giocare a tre quarti però il ruolo che ho giocato oggi è quello che mi sento, diciamo è quello che mi sento più adatto per me ma non vuol dire che non posso fare una partita un po' più avanti però oggi è stato perfetto Che obiettivo vi potete dare con questa classifica che ancora è abbastanza in colore? Dobbiamo cercare di fare bene ogni partita prepararci bene per ogni partita quello è il nostro obiettivo perché da questa situazione l'unica cosa che possiamo mettere con il scopo è abbandonarsi di più della salvezza quindi credo sia questo Erna, il contratto è stato un incontro prima di Natale com'è la situazione? Eh, ci sta avendo la trattativa ci siamo incontrati ci sono parlati e quindi devi avere gli ultimi aggiusti per... Sensazioni? Positiva? Io sono tranquillo c'è ancora un anno e mezzo non è che siamo in fretta grazie 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 grazie